In due anni oltre 350.000 casi di covid da inizio pandemia in Abruzzo. Ieri si è registrato il dato più alto da oltre due mesi e mezzo a questa parte, dopo la tregua a causa dei pochi tamponi fatti a Pasqua. L'effetto Pasqua, insomma, si sente. La contagiosa variante Omicron 2 si sta diffondendo molto rapidamente, un fatto che per l'ennesima volta manda il tilt e il tracciamento. Il virus si riscontra in un tampone su tre e questo la dice lunga sui numeri. Il dato regionale è importante, lo conferma anche il dottore Enrico Giansante dell'ASL 1, seppur sull'Aquilano si registri una lieve efflessione. I casi sono notevoli, ma non tali da restare una grandissima preoccupazione. Per il medico la bella stagione migliorerà le cose. La situazione non è preoccupante, è però una situazione in cui bisogna porre particolare attenzione. La stagione è ancora abbastanza fredda purtroppo, questa è una malattia ad andamento stagionale e quindi dovremo attendere il miglioramento climatico e quindi dovremo mantenere, almeno fino a quando non ci sarà una vera primavera, quelle che sono le misure di attenzione. Al di là dell'allentamento delle restrizioni, quindi il virus circola ancora e molto, anche se Omicron 2 dati alla mano, produce meno complicanze grazie alla vaccinazione. Ma sulla mascherina si capisce che è ancora necessaria, soprattutto in situazioni di sovraffollamento. Il dato dei positivi di ieri è il più alto degli ultimi tempi, con un tasso di positività del 16,71%, un numero altissimo. Al momento le località più colpite sono il Chietino, il Terramano, il Pescarese e infine l'Aquilano. I ricoveri si mantengono stabili, ma l'Abruzzo con gli ultimi numeri è la regione più colpita in questa fase. Nell'Aquilano la situazione è decisamente migliore. È vero, nei giorni passati abbiamo avuto meno casi, frutto anche del minor numero di tamponi che ci sono stati. L'allentamento delle restrizioni può essere uno dei motivi, insomma questa variante è molto contagiosa, sembra che nessuno al momento riesca a sfuggire. Non solo l'allentamento delle restrizioni, c'è anche un allentamento psicologico da parte di tutti i cittadini, legato al fatto di due anni di lockdown, due anni di Covid e quindi io lo vedo anche abbastanza naturale questo allentamento. Però proprio per questo dobbiamo cercare ancora per un certo periodo di tempo innanzitutto di mantenere soprattutto al chiuso le mascherine, di completare, chi non l'ha fatto, le vaccinazioni e attendere anche fiduciosi perché questo sicuramente avverrà, anche quella che sarà la vaccinazione autunnale di richiamo e per gli ultraottantenni quella attuale come quarta dose.